Torna il Festival Meridionale dell'Organetto di Patron Rocco Fortunato, giunto alla sua diciottesima edizione. Quest'anno la manifestazione si terrà a Poli Castro Bussentino, nel Cineteatro Tempio del Popolo, il 23 e 24 giugno prossimi. Il Festival, quest'anno per la prima volta, sarà selezione ufficiale per l'edizione 2018 del Campionato Italiano di Organetto e Fisarmonica Diatonica, ma sarà anche volto alla valorizzazione di chi si è appena inserito in questo mondo. L'Associazione Amici dell'Organetto e dei Fanciulli di Poli Castro Bussentino, che dal 2001 porta avanti questa manifestazione, ha infatti come priorità una premiazione con coppe per tutti i partecipanti e due borse di studio da 150 euro. In giuria sarà presente il maestro Giuliano Cameli, ambasciatore nel mondo dell'Organetto. Il numero dei partecipanti all'evento è limitato a 120, quindi si consiglia di consultare la pagina Facebook diciottesimo festival meridionale dell'Organetto. L'ingresso è gratuito per tutto il periodo con audizioni aperte al pubblico. L'Organetto si può definire uno strumento di alta formazione musicale grazie al lavoro anche di alcuni docenti, come il giovane Alessandro Gaudio di Poli Castro Bussentino, ora direttore del progetto Officina Etnica, che opera a favore dell'inserimento ufficiale dello strumento in tutti i conservatori statali, nel Neodipartimento di Musica Popolare, nonché attuale docente del Conservatorio di Nocera Terinese nella classe di fisarmonica diatonica.